Avete fatto quello che volevate voi, nella vostra immagine, senza tenere conto dei sacchi e dello smog che avete creato, che avete creato nella città che dentro questa zona, avete fatto una violenza in strada, ecco, ecco come si ha fatto, è normale, lei se lo deve aspettare. Grazie a tutti.